Modena è rimasto inespugnabile per Sir Sefeti Conad Perugia, nonostante quattro combattutissimi set in due ore di gioco. 3-1 il risultato finale per gli Emiliani, primo in classifica a pari merito con Civitanova. La squadra allenata da Castellani comunque è uscita a testa alta dal confronto, anche se qualche fondamentale andrà migliorato in primis il servizio. E domani di nuovo in campo, al pala evangelisti arriva il Piacenza, anche questo è un avversario particolarmente temibile. C'è da recuperare i punti per risalire dal quinto posto, usando al meglio le ultime due giornate dell'andata. La gara comincerà alle 18. E siamo agli appuntamenti del pomeriggio, segnalati dall'agenda curata oggi da Rosario Carello.